il caso fedez al concertone del primo maggio e la censura da parte della rai fanno ancora discutere non poco spunta però una nuova bomba sul rapper esplode un'altra bomba per fedez e stavolta a lanciarla è l'espresso il settimanale del gruppo jedi il rapper più famoso d'italia e dei social soprattutto è il protagonista di un'inchiesta che racconta come il marito di chiara ferragni si imbavagli da solo ma per soldi grazie a dei documenti esclusivi nel pezzo disponibile già da oggi online e che domenica finirà su tutti i banchi dell'edicole si parla anche dei segreti della fashion blogger che con il suo socio romano arriva fino a bisignani e previti e lo strano andamento dei titoli delle aziende con cui collabora ma andiamo con ordine dal palco del primo maggio federico leonardo lucia attuonato a favore della libertà di espressione accusando la rai di voler censurare ciò che lui voleva dire niente di più vero se non fosse che come riportano dall'espresso è lui il primo che si limita per utilizzare un eufemismo il gruppo b suoi azionisti e finanziatori in doom amministrata dalla mamma anna maria berrinzaghi gli ha imposto di non rilasciare dichiarazioni inerenti al settore bancario e assicurativo che cagionino un danno alla società scrivono nell'anteprima e ancora se fedez dovesse interrompere quest'alleanza perderebbe solo nel 2021 15 milioni di euro il sistema funziona così il rapper ha il compito di reclutare artisti e addestrarli ai social poi li coinvolge in spettacoli per le banche e li mette sotto contratto con la sua nuova casa discografica tornando al concertone delle polemiche dall'espresso scrivono alla festa dei lavoratori del primo maggio quando ha denunciato il bavaglio della rai di certo non poteva criticare le politiche sindacali e fiscali di amazon poiché ne incarna i valori essendo suo ambasciatore per 800 mila euro d'altronde fedez è diventato uno degli uomini di punta della multinazionale di jeff bezos e dopo il successo di law è pronto a sbarcare con un nuovo format un documentario stavolta che riprende la sua famiglia chiara ferragni inclusa 24 ore su 24 il titolo beh manco a dirlo i ferragnez e ora cosa dirà il rapper sui suoi profili social al momento tutto tace perlomeno su questo argomento sui suoi profili social al momento tutto tace perlomeno su questo argomento grazie a tutti grazie a tutti